Quello che stiamo in qualche modo rilasciando in termini di comunicazione è una forma di precarietà e di indecisione che non giova soprattutto ai giovani. La scuola come argomento scottante affrontato nell'ultimo consiglio dei ministri del 4 gennaio, la scuola che si differenzia da regione a regione, la data per le superiori non è più quella di domani, 7 gennaio, ma è stata posticipata dal governo a lunedì 11, non nelle Marche dove il presidente Acquaroli ha firmato la proroga della didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio. La scuola che protesta perché chiede a gran voce il ritorno sui banchi, eppure bisogna fare i conti col Covid. La scuola che ha scarsa incidenza sulla curva dei contagi, il 2% secondo le stime dell'Istituto di Sanità, ma è tutto ciò che gli ruota attorno ad alzare il livello di attenzione. Questi ragazzi stanno subendo un sacrificio enorme, hanno una necessità impellente di ritornare alla normalità scolastica, questo è evidente, però è altrettanto evidente che la scuola rappresenta un assembramento. In questo momento pandemico il virus non distingue da assembramento a assembramento, probabilmente all'interno delle scuole non ci si contagia così facilmente, soprattutto quello che succede nella filiera scolastica che crea il contagio, ovviamente sono i trasporti, i ragazzi che si fermano a prendere la merenda al bar, che si fermano sotto i portici e si scambiano i telefonini per farsi vedere i TikTok e così via. I ragazzi soffrono di stanchezza, ansia, incertezza, secondo Save the Children in ogni classe ci sarebbe almeno uno studente che ha deciso di abbandonare la scuola. Il ritorno in presenza dovrà essere però un percorso graduale, i presidi non derogano per ora dalla turnazione della DAD al 50% e dicono fermamente no a doppi turni e ingressi scaglionati. È assolutamente impossibile per la grande maggioranza delle scuole organizzare i tuppi turni, per tanti motivi. I primi sicuramente legati alle problematiche e alle impegni che hanno le famiglie, gli studenti il pomeriggio, ma poi c'è un problema gigantesco legato alla sicurezza. Se io ho 10 unità di personale che fanno la disinfezione all'interno della scuola e le devo spalmare su due turni, vuol dire che ce l'ho 5 al mattino e 5 alla sera e questo significa che non mi permette di disinfettare come se ne avessi 10, questo è evidente. E poi ci sono i docenti che sono impegnati su più scuole, rifare, rimodulare un orario che tenga conto degli impegni su due o tre o quattro scuole non è semplice. Grazie a tutti.